Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Attesi condizioni di stabilità con sole protagonista specie dal pomeriggio in Liguria per la giornata di giovedì da segnalare però la ventilazione che soffierà sostenuta con mare in prevalenza mosso. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sull'imperiese, attese condizioni di bel tempo dal pomeriggio al mattino transiterà qualche annuvolamento in più, temperature minime contenute massime intorno ai 10-13 gradi. In dettaglio sul Savonese, situazione praticamente analoga, al mattino avremo qualche annuvolamento di passaggio ma senza fenomeni associati dal pomeriggio attese maggiori schiarite. Le temperature minime saranno a tratti intorno allo zero, massime intorno ai 5-8 gradi, localmente raggiungeremo i 13 gradi. Su Genova ed intorni, anche qui al mattino transiterà della nuvolosità, a tratti a carattere irregolare, solo parziali schiarite, maggiori spazi assolati dalle ore pomeridiane, temperature massime intorno agli 8-10 gradi. Diamo uno sguardo alla situazione attesa anche sul Tigulio, non mancheranno spazi soleggiati, in particolar modo nella seconda parte del giorno anche qui. Le temperature minime a tratti saranno sotto zero, massime intorno ai 10-12 gradi. E infine sullo Spezzino, situazione praticamente analoga, il sole splenderà ovunque dalle ore pomeridiane. Per quanto riguarda la giornata di venerdì in Liguria, il contesto sarà stabile ed assolato con cieli sereni o poco velati e venti a tratti moderati. Tutti i dettagli, come sempre, scaricando l'app gratuita di Trevi Metea. Grazie per la visione!